Come invertire la malattia del fegato grasso? Studi sull'uomo suggeriscono che questo metodo è efficace per le persone con non-alcoholic fat liver disease, ovvero fegato grasso non-alcoholico, quindi non dovuto all'alcol. Questa aiuta a perdere peso e può migliorare la salute del fegato, come valutato da test non-invasivi, e perché attiva la protein kinase attivata da AMP, un maestro regolatore del metabolismo energetico, che innesca l'ossidazione e la scomposizione degli acidi grassi. Il metodo è il digiuno intermittente che prevede 16 ore di digiuno ed è anche ottimo per la salute della tiroide, poiché il fegato supporta una tiroide sana. Seguici qua e su Instagram per avere ulteriori suggerimenti.